Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che scrivo, libri che leggo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr. Mi raccomando visitatelo perché lì potrete trovare tutte le liste di libri che preparo per voi e tutte le recensioni di tutti i libri che leggo. Inoltre anche potete trovare il link di acquisto ai miei romanzi, perché io ho anche scritto dei romanzi, quindi se magari siete un po' curiosi potrete scoprirli anche lì sul mio sito e sul mio blog. Oggi è una recensione caldo quella che sto facendo, riguardo il 22esimo libro della serie The Black Dagger Brotherhood di J.R. Ward. Vi ho da poco fatto un aggiornamento appunto sugli ultimi libri di J.R. Ward, vi ho detto che con la pubblicazione in Italia per Mondolibri della stessa serie siamo arrivati al libro 21 L'Assiter, quindi quello di cui sto per farvi la recensione a caldo perché l'ho proprio finito oggi a mezzogiorno, è proprio il prossimo libro che verrà pubblicato anche in Italia probabilmente l'anno prossimo. Vi avverto sarà una recensione con spoiler perché non posso evitare di farne, ma spoiler molto blandi, ecco cercherò di non dire troppo ma dirò cose, quindi se non volete spoiler lasciamo stare, saltate questo video, passate al prossimo video del canale. Se invece siete curiosi e volete sapere qualcosa sul prossimo libro di J.R. Ward che uscirà l'anno prossimo, allora continuate a guardare il video. Allora, io ho interrotto la lettura della serie Confraternita del Pugnale Nero già diversi anni fa, intorno al libro 12 se non mi ricordo male, però penso di essere arrivata almeno al 15, leggiucchiando un pochino quello che succedeva, però proprio di lettura seria totale mi sono fermata al 12. e direi che non mi sono pentita della scelta, come vi ho detto anche nel mio ultimo video di aggiornamento su J.R. Ward, di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box, lo stile di J.R. Ward non mi piaceva più, era diventata troppo corale, in ogni libro c'erano veramente troppi punti di vista, i libri erano diventati tra l'altro anche troppo prolissi, secondo me ad ogni libro si poteva togliere almeno la metà delle pagine e la trama non ne perdeva assolutamente niente, si poteva anche togliere qualche punto di vista a mio avviso, perché faceva i punti di vista anche di personaggi non secondari, terziari, che magari morivano di lì a due pagine e che senso aveva? Nessuno, infatti vabbè. Comunque lasciando stare tutto questo, ho però voluto riprendere la lettura di questa serie adesso al 22esimo libro, quindi ben 10 libri dopo, perché questo libro aveva come protagonista la figlia di Zadist, Zadist era stato il protagonista del terzo libro della serie Lover Awakened ed era il mio personaggio preferito della serie e anche di una mia amica di Manuela con cui faccio anche il podcast che potete sempre seguire su questo canale, era un personaggio davvero affascinante a cui siamo affezionate, quindi ho detto senti adesso ci sarà molta presenza Zadist in questo libro perché parla di sua figlia, cioè che lui adorava, cioè vuoi che non ne parliamo qui e quindi ho detto, eh, questo 22esimo libro lo devo leggere e l'ho fatto, cosa di cui mi sono pentita, io ho fatto anche molta fatica a finirlo, ve lo dico, ho anche saltato alcuni punti di vista perché tanto non me ne fregava niente ed erano completamente inutili, ve lo dico, ma l'ho finito e non mi è piaciuto, non l'ho odiato, però devo essere sincera, mi è stato completamente indifferente, ma partiamo per gradi, allora, cominciamo col dire, ma ve l'ho già detto diverse volte, che io ero affezionata ai confratelli originari, quindi a Re Brat, Rage, Zadist, suo fratello gemello, Vicious, eccetera, 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 cioè proprio i sei originari, ok, e anche in parte a Lassiter, che comunque era presente fin dall'inizio della serie, non ho letto l'ultimo libro di Lassiter, in cui succede qualcosa che non vi svelo, ma per cui in questo libro ne vediamo le conseguenze molto molto importanti, e se non altro una delle poche cose positive di questo romanzo è che si concentra molto, soprattutto nella prima parte, all'inizio, sui fratelli originari, c'è appunto Brat, Zadist, Vicious un pochino, sì, insomma, su due o tre dei confratelli originari, non tutti, alcuni, però non abbastanza, non abbastanza, e io avendo saltato gli ultimi dieci libri, li ho visti comunque molto molto cambiati in questo romanzo, e ho visto cose che non avrei voluto vedere, allora cominciamo col dire che una delle cose che mi aveva dato fastidio, mi aveva portato ad abbandonare la serie, era anche il fatto che J.R. Ward ogni tanto, spesso, molto spesso, ressuscita dei personaggi, no? Cioè, abbiamo cominciato, penso, nel libro 4, se non mi ricordo male, o 5, a ressuscitare gente e non ci siamo mai fermati. abbiamo quindi le ressurrezioni facili, ok? E poi abbiamo anche le reincarnazioni abbastanza facili, e va bene, ok? Passi anche questo. C'erano già nei primi libri originari, però, allora, se mi ressusciti l'80% delle persone che muore, e il povero altro 20%, cosa ti ha fatto di male? Cioè, è quello, o ressusciti tutti, o non ressusciti nessuno, o se no, ressusciti giusto quei due, tre personaggi chiave, ok? Ma non puoi continuare a ressuscitarmi gente, cioè, solo in questo libro abbiamo due, o meglio, vediamo le conseguenze di due molto importanti ressurrezioni, ok? Ma basta, cioè, allora, se decidi di far morire qualcuno e questa morte deve avere un senso, deve avere un'importanza, allora deve star morto, perché non voglio, né che si reincarmi e né che ressusciti, perché se dopo dieci libri, circa, me lo fai ressuscitare, allora che senso ha avuto tutto quello che c'è stato qui in mezzo in questi libri e tutto quello che è successo prima? Cioè, tu nella trama hai deciso di far morire qualcuno per un motivo, immagino, no? E allora deve stare morto, non è che dieci libri dopo all'improvviso a lei torna, anche perché, ma uno ci mette vent'anni a ressuscitare? Cioè, o me lo ressusciti subito o non me lo ressusciti almeno, no, neanche quello, abbiamo anche la ressurrezione fuori tempo massimo in questo libro, ok? Poi abbiamo anche la ressurrezione non so perché o meglio lo so perché ma non te lo dico basta. Adesso comunque farò un grosso spoiler che sapete già se avete letto l'assiter ma se non l'avete letto forse non lo sapete comunque Vrat torna in vita dopo circa vent'anni da cui era morto solo che alcune che molte persone non sapevano che era morto perché era stato sostituito dal suo fratello gemello o dal suo sosia adesso non mi ricordo neanche chi è da tanti libri sono passati quando ce l'hanno presentato nel primo libro della serie quindi siccome c'era sto sosia che ha fatto le sue veci per tutti questi anni tanti non sapevano che era morto ma in realtà era morto e adesso è tornato e quindi c'è un grande sconvolgimento degli animi no? Ok? E inoltre è stato risuscitato anche uno dei guerrieri più giovani dalla compagna di lassiter perché lei sapeva probabilmente che lui doveva diventare il compagno di Nalla no? E quindi probabilmente lo ha risuscitato per questo trent'anni prima o vent'anni prima beh insomma comunque tanti anni prima e lui però non gliel'ha mai perdonato questo perché vabbè che i vampiri sia che anche qui che un vampiro vabbè non riesco neanche a dirlo cioè che un vampiro si lamenti e faccia il martire perché gli è stata donata la vita eterna fa un po' ridere perché comunque i vampiri hanno delle vite lunghissime possono essere uccisi in battaglia quindi i confratelli non hanno delle vite lunghissime di solito ma normalmente parlando comunque i vampiri hanno delle vite lunghissime quindi questo qui era stato reso immortale non poteva venire ucciso neanche in battaglia ma ed era super depresso per questo tanto che quando vedendolo così depresso da trent'anni questa qui che lo ha risuscitato gli offre di ucciderlo lui subito dice uccidimi subito cioè neanche ci pensa così anche se appena rivisto Nalla e si è accorto che probabilmente sono compagni perché sono attratti negli ultimi vent'anni non si erano mai accorti di questo se ne accorgono adesso così all'improvviso una sera in discoteca si vedono e ciao è fatta e si conoscono fin dall'infanzia va bene ok accettiamo anche questo accettiamo anche che Vrat dica a sua moglie ma se ti fosse rifatta una vita capirei e lei si offende giustamente perché l'ho aspettato per vent'anni e non ha avuto nessun altro questo qua torna e fa il geloso facendo finta di non essere geloso uè bassa un po' la cresta cioè anche te non è la prima cosa che mi dici da vivo è questa cioè pensa a tuo figlio che è cresciuto senza di di te dopo che lo abbiamo chiamato Little Vrat come nome che nome è ma poi ma che nome ha dato a tutti i figli dei dei confratelli Nalla L.V. Shuli ma che nomi del cavolo sono mentre i confratelli avevano tutti dei nomi figli Darius Vrat Rage Zadis e questi qua Nalla Shuli Nate e oltre a tutte queste cose che mi hanno dato fastidio si somma il fatto che Zadis sienò lo vedi e sienò ha un ha un ruolo a parte quello di padre geloso ma neanche più di tanto no no sua figlia Nalla che è adorata da lui e da sua moglie ok ieri in faccia non l'iperprotettività che probabilmente ha e che aveva anche nei confronti di sua moglie nel suo libro un'iperprotettività veramente the next level tipo stai chiusa in casa e non uscire no non gli rimproverà quello perché alla fine non è stata chiusa in casa ha avuto una vita abbastanza libera considerando che sono in guerra con i lesser quindi comunque tutti i giovani sono sotto sorveglianza per questo problema della guerra e poi anche perché Wrat era morto quindi la nuova generazione non lo sapeva che Wrat era morto ma da allora si erano accorti che tutti gli adulti erano diventati depressi e non se l'erano spiegato ok ma nonostante questo Nalla rinfaccia a Zaddis semplicemente che lei è la terza ruota del carro perché per lui esiste solo suo amore e quando ho letto questo quando ho letto questo ho detto ma che cavolo sei Nalla cioè questo qui bacia la terra su cui cammini sia tu che tua madre e gli rinfacci che pensa solo tua madre che non ti vuole bene come tua madre che gli dai fastidio perché lui vede solo tua madre ma se hai appena detto che è troppo iperprotettivo nei tuoi confronti ma allora o l'uno o l'altro ma che maturità del cavolo hai anche perché dopo la scrittrice cerca di presentarmi Nalla come qualcuno di più maturo di altri dei giovani della nuova generazione dei figli dei confratelli no lei è più è più matura lei è più seria lei lei è più lei è più perché ce l'ha solo lei ok lei è figa lei ce l'ha tutte lei è figa ma senza sforzarsi quindi non ha bisogno di vestirsi sexy per essere figa quella è la differenza ok e fa la volontaria in una specie di centro di casa famiglia lei è buona brava bella e ce l'ha solo lei va bene posto questo appunto si accorge una sera che è attratta da Nat Nat si accorge che è attratto da lei così all'improvviso la volontà che si conosceva e scopre che Nat appunto è immortale lui vuole morire però allo stesso tempo non vuole non vedere più il sorriso di Nalla nella sua vita succederanno cose perché appunto nella guerra c'è un escalation perché ve la faccio breve adesso in questo libro si vede che una famiglia mafiosa di Cadwell di origine irlandese è rimasta invischiata col cattivo col capo dei Lesser che al momento è Lash che è un ex confratello se non mi ricordo male ok e quindi è molto potente e si è infiltrato in questa organizzazione e anche Nate aveva cercato di infiltrarsi per scoprire cosa stavano tramando i Lesser che appunto si stavano infiltrando con la mafia e anche Zadis si era infiltrato per scoprire questo insomma c'è tutto questo gioco di io spio te che tu spi me ma l'os che è un cattivo figo sa già tutto quindi crea degli altri Lesser perché più più gli ammazzano più ne crea altri quindi vabbè è una guerra infinita eccetera eccetera insomma succederanno cose ma alla fine diciamo che Nalla e Nate si metteranno assieme Nalla si rivederà anche una combattente straordinaria con un istinto feroce perché lei è brava buona bella eppure figa eppure guerriera ce l'ha solo lei e e quindi Nate alla fine deciderà di non morire ci sarà una riunione spiegazione insomma chiarimenti anche con perché c'è una trama secondaria ma veramente molto 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 secondaria che riguarda Little Brat e un'altra dei figli dei confratelli e una profezia e stendiamo un velo anche su come J.R. Ward presenta le profezie perché avrei molto da dire anche lì perché sta povera Christa è un po' che ha ste visioni no finalmente vada Vicious a chiedergli senti io sto avendo questa visione ok ma glielo dico a quello che ha interessato questa visione o non glielo dico anche lui gli dice guarda le visioni arrivano per un motivo e qualsiasi cosa tu faccia se una cosa deve accadere accadrà il che a me fa pensare è inutile che tu glielo dica perché tanto quello che deve accadere accadrà e invece lui le dice se tu credi sia meglio diglielo cazzarola che che suggerimento perché magari se glielo dici lui sarà avvertito qualcosa potrebbe cambiare cioè tre righe prima hai detto che non può cambiare niente perché il destino è il destino tre righe dopo dici praticamente il contrario e io conoscendo la guard che resuscita gente a destra e a manca in ogni libro c'è una resurrezione se non due dico ma cavolo digliela la profezia anche perché tu gli vai a chiedere a Vishus se gliela devi dire a Little Vrat questa profezia dopo che gliela hai già detta perché sei andata in trance davanti a lui e hai parlato quindi che senso ha anche il fatto che tu glielo chieda nessuno ma niente ha senso in questo libro cioè non puoi cercare un senso logico in questo libro perché non c'è la cosa più logica che succede è che i cattivi fanno la guerra ai buoni i buoni fanno la guerra ai cattivi e vinceranno i buoni almeno in questo libro questa battaglia e Zadist accetterà Nate che entrerà a far parte della loro famiglia e Nate e Nalla andranno a vivere in una casa da soli ecco queste sono le tre robe che fanno senso tutto il resto è noia senza senso punti di vista inutili e veramente Zadist lo vedo troppo poco in questo libro o comunque lo vedo in un ruolo che non gli si addice perché il punto di vista è quasi sempre quello di Nalla c'è poco il punto di vista di Zadist il punto di vista di Zadist più bello ce l'abbiamo all'inizio inizio del libro quando sono solo lui e sua moglie che parlano e si dicono cose anche qui avrei da dire su cosa si dicono ma comunque era il momento più alto quando c'è solo Zadist e sua moglie perché Nalla è veramente una rompipalle vabbè avete capito che non mi stava molto simpatica e questa è la mia recensione a caldo di questo libro che direi si può benissimo saltare perché non succede niente ma d'altronde io ho saltato gli ultimi dieci libri ma non mi ero persa niente a parte appunto il fatto che avevano reso Nete immortale ma anche se non sapevo chi era Nete non mi è cambiato nulla è uno dei nuovi guerrieri della nuova guardia sa niente di che sono veramente triste per Zadist triste per questa serie se la volete leggere datemi retta leggite i primi sei sette massimo dieci libri e lasciate stare tutto quello che viene dopo perché è veramente non all'altezza dei primi libri per questa recensione a caldo è tutto come sempre vi auguro buona lettura e mi raccomando cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video ciao ciao